Alla scoperta di una giovanissima artista che ha davanti a sé un futuro roseo è Aurora Campostrini, 13 anni, una cantante dalla voce eccezionale Allora, la mia voglia di cantare è iniziata a tre anni, che cantavo sul divano con un pennarello Ho conosciuto Aurora lo scorso luglio a Giaveno, non distante da qua, come se la provincia di Torino a un concorso che organizziamo io, è una vocal coach di Giaveno che si chiama Conci Giacomo Antonio Per conoscerla meglio e capire qual è il percorso che l'attende, l'appuntamento è lunedì 11 marzo alle ore 21 su ON TV Web Grazie a tutti